Gran Torino, il mitico Clint Eastwood alla regia, e secondo me è molto meglio la regia che come attore, anche se diretto da se stesso diventa bravo, gli altri film non sono un gran che, ma questi diretti da lui, questo è un gran film, drammatico, tutto quello che vuoi, ma un gran film da vedere, 8, 8 e mezzo.